buongiorno a tutti primo giorno di vacanza con il mio zaino aspettate ve lo faccio vedere carpisa bellissimo qua dentro qua c'ho tutta la testa per fare i video adesso andiamo in agriturismo rocca rocca non mi ricordo più poi ve lo segno ve lo segno non mi ricordo più no 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Ci mettiamo in viaggio Ci vogliono circa due ore Per arrivare al fiume Ci vediamo dopo Ci vediamo in viaggio Ci vediamo in viaggio E poi per andare alla cascata Se tu vuoi bagnarti i piedi Vai dritto all'uccello Ti bagna un po' i piedi E poi c'è il percorso Se tu vuoi bagnare i piedi Fai il giro intorno Poi c'è la passarella E ti va a fare il giro intorno Allora io scendo di qua C'è la cascata e il fiume Allora tu Se vai dritto Sì Attraversi l'uccello con i piedi Ok E poi dopo l'uccello Inizia il percorso per andare alla cascata Ah ok a posto Sì che vuoi bagnare i piedi Invece vai dall'altra parte Cioè scendo dall'altra parte Passarella sulla sinistra E fai il giro in dora Va benissimo Allora avanti Vedi quella staccionata con le scale Che scende Sì La scendi Sì Il tavolo è presso là Sotto il ruccello Si chiama F4 F4 va benissimo Buona giornata Anche a te Ciao Sotto il ruccello Buona giornata Buona giornata Buona giornata Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.